benvenuti alla nottola di minerva e questa volta parliamo di un medico e filosofo francese non c'è nessun tipo di medico e filosofo all'epoca sappiamo benissimo che medicina e teologia e filosofia erano strettamente legate all'epoca prima delle settorializzazioni ottocentesche Pierre-Jean Geor Cavani medico e filosofo francese l'opera è il rapport du physique du moral dell'homme rapporti tra il fisico e il morale nell'uomo prima edizione a Parigi 1802 Cavani riconduce i processi fisici e psichici dell'organismo umano alla base comune della sensazione generale intesa come percezione sensibile o anche come reazione corporea Cavani intende dimostrare il nesso organico fra anima e corpo illustrando il rapporto tra sfera morale e variabili qualità e variabili quali età sesso temperamento malattia nutrizione clima quindi Cavani nei rapporti tra il fisico e il morale nell'uomo porta a una concezione fondamentalmente monista di riunificazione del dualismo centenario quasi millenario della divisione fra anima e corpo c'è assolutamente una base comune della sensazione generale alla prossima